ciao amiche ed amici, se vi fa piacere seguitemi in questo nuovo video allora mi preparo la sera prima il prefermento per questo pane questo è il mio licoli, è un licoli che ho creato con la pasta madre l'ho rinfrescato un paio di volte eccolo qua quindi vado a mettere 30 grammi di licoli e poi ci metterò l'acqua, ci metterò 90 grammi di acqua colgo la tara sciolgo, messa l'acqua sciolgo con una forchetta e poi metterò la farina ci metto la farina zero, la stessa farina che userò per fare il pane userò una farina zero pugliese, questa è una farina pugliese insieme alla rimacinata Martimucci, sempre Pugliese, anzi la Martimucci è proprio di Altamura bene, giro così, adesso qui l'avevo accelerato un pochino dopo di che copro con la pellicola, pulisco prima con il tarocco copro con la pellicola e lo lascio fino alla mattina quindi lo sto facendo di sera, quindi sono 7-8 ore, anche 10 allo stesso ok ed eccoci, eccoci la mattina, vedete come è cresciuto, è aumentato di volume è bello bollicioso e qui procedo per fare l'impasto queste sono le farine che ho preparato, quindi procedo per l'impasto l'acqua, 350 grammi di acqua vado diretta nella ciotola della planetaria ho messo la farina, ci metto il preimpasto eccolo qua, preimpasto, polish credo sia la stessa cosa ci metto un po' d'acqua e faccio girare continuo a mettere acqua non la metto tutta insieme, ne metto sempre un po' per volta anche per vedere se va bene la dose che ho deciso di mettere ci metto anche il sale e comunque 350 grammi di acqua calcolando che il preimpasto è liquido, è fatto con i licoli quindi si arriva quasi all'80% di idratazione ci metto anche mezzo cucchiaglino di malto giro ancora diciamo che ho girato una diecina di minuti poi lo metto dentro una ciotola dove ho messo l'olio e faccio il primo giro di pieghe in questo modo lo copro e lo lascio un'ora dopodiché passato il tempo faccio un altro giro e lo lascio ancora riposare lo lascio riposare dopo l'ultimo giro quindi lo copro e lo metto a lievitare ed eccolo qua a lievitazione avvenuta quindi dopo 4-5 ore a temperatura ambiente ora lo verso sul piano di lavoro dove ho messo spolverato ho messo parecchia farina perché è molto morbido, è molto idratato ok quindi questo pane si può fare benissimo in giornata prepariamo il prefermento la sera il giorno facciamo l'impasto e prima di cena abbiamo il pane caldo come vedete ho fatto soltanto una piega delicatamente senza toccarlo molto ho allungato un pochino e adesso vado a fare le pezzature allora io ne farò 4 4 ci verranno 4 trecce belle grandine altrimenti 6 ce ne vengono anche 6 più piccoline allora vediamo come procedere per la formatura l'abbasso un pochino ho preparato i semini vedete sono dei semi misti qui c'è la zucca il lino il sesamo allora adesso allungo un pochino così lo allungo un pochino senza toccarlo molto e divido in tre per fare la treccia la trecciolina allungo pure un pochino così e in treccio i semi li metterò sopra non li ho messi dentro come avete visto tanto si attaccano poi con la lievitazione vanno anche un pochino in mezzo ecco qua e questa è la mia trecciolina adesso buttiamoci i semi sopra e sotto mi metto sotto anche così ok ecco qua poi si attaccano bene perché poi comunque debbono livitare ancora un paio di orette la prima è pronta naturalmente i semi li fate a piacere se non avete altre preferenze mettete quello che volete il sesamo credo che ci sia anche il sesamo qui nei semi misti l'adaggio l'adaggio la treccia su un telo su un canevaccio dove ho messo la semola mettiamo parecchia semola così non si attacca li metterò tutte qua strette così piego il telo in modo che si aiutano si toccano non si allargano diciamo bene mi preparo l'altra mettiamo i semi anche sotto ok adesso accorcio un pochino ecco la seconda poi voglio voglio fare scusate voglio fare tipo un torciglione anche non solo trecce così arrotolo adesso mi è venuta in mente così questa cosa mi ricordo l'abbiamo fatto questo torciglione anche con il gruppo nuvola se non sbaglio ecco qua attacco anche qui un po' di semini ed è pronto anche questo ok e vado ad adagiarlo sul telo ancora un po' di semi allora all'ultimo pezzo ci farò una treccia senza semi per accontentare anche un nipote che non gradisce i semini nel pane gli piace molto il pane mio ma i semi non li gradisce quindi ne farò una per lui una treccia senza semi ok ecco qua anche questa molto carina questa un pochino più grande non ho pesato i pezzi ma non importa bene quindi metto nel telo copro anche sopra e lascio lievitare un paio di ore non di più dentro cazzo ci sono i riscaldamenti comunque lievita subito ok dopodiché mi accendo il forno a 250 gradi con vapore un paio di spruzzi di vapore io ne cuocerò prima due e poi altre due perché altrimenti si attaccano crescendo crescendo nel forno ho messo a 250 però come come in forno 5 minuti e abbasso subito a 230 perché essendo tagli piccolini mi sembra troppo alto 2,50 allora io procedo così giro così sul palmo e sul braccio e poi metto sulla carta forno sulla pala e farò scivolare sulla teglia già calda ecco qua scusate l'inquadratura non si è visto bene però conoscere già il mio metodo per infornare bene eccolo qua ho già abbassato 230 poi 220 e ancora 200 ci vorranno lì circa 30-35 minuti non ci vuole molto non le faccio colorire troppo essendo piccoline snuoverebbero troppo croccanti bene amici io direi che sono venute è venuto bene questo pane queste trecce sono profumatissime c'è un buon profumo naturalmente le aprirò calde perché dobbiamo cenare mio merito sta aspettando il pane quindi le apro calde cosa che non si farebbe ma con questo tipo di pane sono buonissime comunque mangiate calde eccole qua io vi ringrazio per la visione vi invito a condividere il video lasciare un like a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanella attivate la campanella così vi arriveranno le mie notifiche ciao a tutti e ci vediamo presto per un altro video ciao 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 ciao